Allora, adesso agganciandoci a questa dicotomia che tu vivi, da una parte questo tuo lavoro di session man sia in studio sia dal vivo con dei grandi artisti più standard, come stile, dove tu hai un certo ruolo. E' un altro genere di musica, nel senso che nel pop il protagonista è chiaramente l'artista, la voce. Sì, sì, diciamo che il ruolo del basso ovviamente è completamente diverso. Da una parte c'hai il ruolo di collante di tutta la band nel mondo pop, comunque di queste grandissime produzioni, e dall'altra parte tu sei un funambolo pazzesco, diciamo, nelle tue produzioni. No, no, i funamboli sono ben altri, veramente, io ti ripeto, sai che ogni anno vado al NAM e ogni gennaio vado al NAM alla fila di Los Angeles, perché sto con Marco Bass nello stand, e io lo consiglio a tutti i miei allievi, a tutte le persone, è una concentrazione di umiltà incredibile. Chiunque crede di avere qualsiasi tipo di belleità sul proprio strumento dovrebbe fare un quattro giorni di NAM, e col primo cinese di sei anni che arriva sul palco e praticamente suona tutto il tuo repertorio che hai suonato prima di lui con una mano sola, magari. E quindi il discorso funambolico... È al doppio del metronomo. Esatto, è al doppio del metronomo. Diciamo il discorso funambolico viene archiviato subito, completamente. Diciamo che c'è il mio meglio. Come abbiamo potuto sentire in tanta occasione, come su questo Sepulveda Boulevard, cioè ovviamente fai delle cose nelle tue produzioni di tutt'altro stile, ecco. Non voglio dire tutt'altro stile. No, ti dico una cosa subito, scusami perché è carina. Secondo me è una cosa importante. Allora, nel libro, prima di ogni brano, io descrivo il perché del titolo. Perché io, nel senso per me, è molto importante il titolo, non è mai messo a caso. E di solito rappresenta proprio da dove è nata la scintilla del pezzo specifico. Ad esempio c'è un brano che si chiama Distressor Blues, che è un blues un po' stressato, in realtà, perché è nato proprio dopo una giornata di traffico a Roma, dove io ero in ritardo, sono tornato a casa, avevo tutto questo stress incredibile, e ho scritto quel pezzo, come tanti altri pezzi sono stimolati sempre da un sentimento. E Sepulveda Boulevard, che è chiaramente un pezzo forzennato, insomma, come hai sentito, in realtà perché viene dal fatto che io, essendo appassionato di Los Angeles, sono abbonato a tutti questi, sono i network, no? Tipo Fox News, eccetera. E una cosa che succede continuamente a Los Angeles è il fatto che, tipo giorno di ordinare a follia, c'è il pazzo che impazzisce e comincia a correre nelle highway con una macchina. E chiaramente gli va dietro tutta la polizia di Los Angeles che non vede l'ora, e chiaramente questa cosa è seguita dal network con l'elicottero, ok? E non mi chiedere perché, un po' perché è un modo per me per rivedere le zone magari che conosco, eh. Io vengo ipnotizzato da questo tipo di prasmissioni e quindi magari mi metto lì e guardo mezz'ora e sa, la polizia di Los Angeles insegue nei quartieri malfamati questo delinquente che o ha rubato una macchina o chissà che ha fatto. E quindi spesso, quando avviene questa mia ipnosi nei confronti di questi avvenimenti, so col basso in mano, e quindi ho riprodotto quello che vedevo. Cioè, questo rappresenta proprio in musica un inseguimento forsennato tra le strade di Los Angeles. E per questo ha il nome di una strada anche, infatti. Bene. Però ecco, Mario, come fai tu a dividerti mentalmente su questi due mondi? Perché mi è capitato di conoscere tantissimi artisti anche che lavoravano con dei grandissimi artisti nazionali e internazionali che facevano una cosa specifica. Questo succede in particolare per voi, diciamo, della sezione ritmica. Cioè, che avete bisogno anche di una quadratura contante, di un legame, di fa proprio da collante, perché se viene a mancare quel feeling di groove tra basso e batteria, i pezzi non girano. Però ecco, la maggior parte di questi che io conosco sono persone che suonano tendenzialmente quello, fanno squello. Come fai a dividerti mentalmente tra questi due mondi? Ok. Io ti faccio subito una provocazione, no? E penso, quali sono i più grandi musicisti che tu conosci nel mondo del pop, ma nel mondo? A me viene in mente Vinicolo Aiuta, no? Che ha suonato nel mio disco, e chiaramente è uno che nel suo curriculum ha tutto, da Zappa a suonare al Chiodo Costing, a Alan Otsworth, e Jimmy Johnson, uno dei più grandi bassisti viventi, mi viene in mente Nathan East, mi viene in mente Will Lee, mi viene in mente Marcus Miller. Sono tutte persone che noi conosciamo per le produzioni più importanti del pop, Abram Laborel, ok? Quindi hanno fatto il pop molto prima di noi, e molto meglio di chiunque di noi. Quindi, voglio dire, immagina il curriculum che può avere di dischi pop, uno come Abram Laborel, o, ti ripeto, lo stesso Landau, o Steve Luketer, posso andare avanti tutti i nomi, che poi sono quelli che gravano intorno a Los Angeles, dei Toto, insomma, lo stesso Simon Phillips, sono persone, e addirittura anche jazzisti, blasonati come Padiducci, hanno fatto anni di turni di pop, e colonne sonore da film. Ora, che cosa succede? Che, in realtà, secondo me, quello è il segreto proprio per migliorarsi ancora di più. Il fatto di non rimanere agganciati a un genere, ma assorbire tante cose, da tanti contesti diversi, da tanti generi diversi. E io faccio sempre l'esempio di Jimmy Johnson, perché secondo me è veramente quello che più rappresenta questa cosa, no? Perché? Perché io ero ragazzino, e ho avuto la fortuna, guarda, è stata una bellissima esperienza, perché un mio caro amico, che è Alex Travi, prendo occasione per salutare, che è uno dei proprietari della Zen Art, una cooperativa di musicisti, organizza concerti, è il manager di Seag Head, e quindi è venuto a Roma, mi ha invitato al concerto, e siamo stati nel backstage con loro, e poi immaginare la ritmica era Seag Head e Jimmy Johnson. Cioè praticamente ho imparato più in quel pomeriggio che negli ultimi dieci anni, ok? Cioè è veramente stato un concentrato di classe, eleganza, apportamento. E a Jimmy Johnson in persona, quindi è stato bellissimo per me, anche lì ho chiuso un cerchio della mia vita, gli ho raccontato questa aneddota, che io praticamente quando ero ragazzo, avevo due dischi che mi facevano impazzire proprio, che già rappresentavano questo dualismo, che io un po', che era il disco di James Taylor, il live di James Taylor, che era suonato con una classe, con un'eleganza, proprio una maniera di accompagnare i brani, che veramente mi colpiva, mi emozionava. Io andavo a vedere i credit, e leggevo Jimmy Johnson, no? E l'altro disco che mi faceva impazzire, era Secrets da Nozworth, che chiaramente consideravo una cosa talmente tanto diversa, che pure se leggevo Jimmy Johnson, diceva vabbè, Johnson, cioè Mark Johnson, Lewis Johnson, sono tutti omonimi questi, no? Invece era lui? Per anni ho creduto che erano due persone diverse, perché non potevano essere la stessa persona, e invece potevano essere la stessa persona, e non solo erano, ed è il musicista incredibile, di enorme sensibilità, che è Jimmy Johnson, e che veramente ha creato le pagine più delicate di musica, e chi è appassionato di James Taylor lo sa di cosa parlo, veramente con tre note, con un sonno stupendo, un tocco che ha insegnato a tutti a suonare pop, e contemporaneamente quello che ha suonato su Secrets, che praticamente in una misura si stanno tutti gli accordi al disco di James Taylor, ok? Tutti in una misura, ok? Però in undici sedicesimi, ok? Ora, tra le altre cose, mi ha raccontato lui, che a differenza di quello che si immagina, Alan, che era chiaramente alla nozze, perché era un marziano, non scriveva niente, non gli andava, non si metteva lì, chiaramente poi scrive le cose che suonava lui, era difficilissimo, quindi si rompeva, e quindi gli faceva, no, guarda, è semplicissimo, è così, senti, papatapatata, ok? E minimo, minimo, lui stava lì che scriveva appunti, minimo, minimo era un tempo assurdo, in sette, e c'erano sei accordi, però, in quella misura della sette, ok? Allora, Jimmy Johnson era la stessa persona, e per questo è di quella sensibilità, anzi, io arrivo a dirti questa cosa, io da quando ho fatto il disco, e quindi da quando ho espresso, messo in evidenza anche queste attitudini che ho, riesco a suonare molto meglio, in maniera molto più rilassata, e molto più distaccata, essenziale, anche con gli artisti, perché in realtà riesco ad annulare ancora di più l'ego, perché a quel punto, in quella maniera, l'ho messo solo lì, Quello che, diciamo, in qualche modo è una parola brutta, però quello che so fare, no? Quello che altro ho nelle possibilità, e, diciamo, musicali, a quel punto, nel suonare con l'artista, io ho solo il ruolo di far star bene lui, e basta. E quindi, ti ripeto, non solo lo considero, voglio dire, una cosa che, però, come vedi, dai miei gusti musicali, è sempre stato naturale, perché io ascoltavo, contemporaneamente, De Gregori, Pino Daniele, e Alan Hotsworth, e voglio dire, e poi il rock, tra le altre cose, come ti dicevo, che mi piacciono i redocci di Pepper, eccetera. Quindi, per me sarebbe impossibile, poter concentrarmi, solo in un genere di musica, perché, chiaramente, è una cosa che ti limita, è come, immagina che la musica è come il mondo, no? E suonare vari generi, e viaggiare, conoscere il brasiliano, nel mio disco si sta musica africana, cioè, il Brasile, nel prossimo disco sto mettendo un pezzo flamenco, un pezzo, un flauto giapponese, ma perché questo? Perché, in realtà, viaggiare, è come, suonare tanti geni, è come viaggiare nella vita reale, non può, è solo che migliorare, andando a scoprire altri punti di vista, altri mondi, altri modi di vedere le cose. è come viaggiare, è come viaggiare, Grazie.